La necessità di tornare a vincere serve da subito una svolta che si chiami Lecce o Entella. L'avversario non fa differenza, la classifica Langue, play-out 5 punti, salvezza 8. A prescindere dai limiti, inizio di stagione a dir poco disastroso, 7K1 nelle prime 9 partite. Eredità pesantissima, raccolta prima da Breda che se non altro ha conquistato 12 punti senza i quali non staremmo neanche più a parlare di speranza e salvezza. Poi da Grassadonia che ora dovrà imprimere una marcia diversa. Il tecnico salernitano ha restituito compattezza alla squadra ma non basta. Per tornare al successo bisognerà rischiare qualcosa. All'Adriatico il Pescara non segna da quasi 400 minuti. Ultima rete di Sassà Bocchetti al 61esimo del match col Brescia dello scorso 22 dicembre. Non è possibile prescindere dalla difesa 3 per caratteristiche dei centrali in generale e per le caratteristiche dei terzini che sono in realtà più dei quinti. Quando subisce gol è la storia di questa squadra in questo campionato, fa una fatica in mane a recuperare. C'è però l'impellenza di fare il risultato, il tempo stringe e bisognerebbe rendere almeno in teoria questa squadra un po' più offensiva. Come si fa? Si fa con il lavoro, cercando di lavorare bene durante la settimana, cercare di capire quello che bisogna fare quando la squadra è in fase di possesso palla e soprattutto giocarsi le partite col piacere di farlo. Avere sempre la testa alta, si sbaglia, si ricomincia. Mi piacerebbe e voglio una squadra che sia forte mentalmente. Memusha è in grado di giocare dal primo minuto? Vediamo, sta bene. Insomma, il ragazzo nonostante il Covid sia allenato, sta bene, è pronto, è disponibile. Lo vedo anche nervoso al punto giusto. Chiaramente parlo della gara caratterialmente parlando, quindi è un'opzione in più. Ecco, c'è l'idea di impiegarlo da play? Vediamo, vediamo domani. De Sena, Busellato e probabilmente maestro davanti, Galano, alle spalle di Odgaard. Recuperato ma assente da un mese, Giannetti partirà dalla panchina. Per contro il Lecce, settimo in classifica. Team di primissima fascia, un po' discontinuo. Il meglio in trasferta, cinque vittorie, quattro pareggi, solo due K.O. contro Brescia e Spal. Segna tantissimo l'undici Salentino, 43 gol, uno in meno della capolista Empoli, ma subisce altrettanto, ben 31, le reti incassate. Otto assenze, Dermacu, Adia Pong, campionato finito, rottura del tendine De Chille, Nikolov, Listovski, Pisacane, Vigorito, Monterisi e Calderoni. Corto a centrocampo, cortissimo in difesa, appena due centrali a disposizione, Meccariello e Lucioni. 4-3-1-2 il sistema di gioco, la probabile formazione, Gabriel Trepali, il 39enne Maggio, Lucioni, Meccariello e il 2000 Gallo in difesa. Il danese Juhlmann, classe 99 in cabina di regia, Anderson O. Mayer e lo svedese Björkengren, mezziali. Mancosu tra le linee, alle spalle di coda, vice capocannoniere con 12 gol e il 2001 Pablo Rodriguez, proveniente dalla cantera del Real Madrid. Sarà probabilmente ancora panchina per il polacco Stepinski. Corini. Sappiamo già che domani troveremo un avversario forte, perché se si va a scorrere la rosa del Pescara si vede le caratteristiche, le qualità che hanno i giocatori che compongono appunto la rosa. Sono andati a pareggiare a Frosinone, avendo appena cambiato allenatore e sappiamo quanto è forte il Frosinone in casa. Di conseguenza già questa è un'ulteriore prova per noi. Lavoreremo e faremo il massimo per cercare di portarla a casa, perché è fondamentale l'impulso che vogliamo dare al campionato. E anche in ottica, come vi ho detto, che finché ci sarà la possibilità proveremo anche a entrare nelle prime due per dare un impulso anche da questo punto di vista. Questo è un avversario da tenere in grande considerazione, è una rosa importante, però d'altro canto siamo forti anche noi. Quello che i ragazzi devono capire lo stanno capendo e quindi bisogna crescere con l'autostima, bisogna crescere in convinzione e bisogna domani battagliare, perché ci sarà da battagliare. Nella storia dei precedenti all'Adriatico, Pescara avversario particolarmente indigesto a Lecce. 19 K.O., 17 pareggi, un solo successo ospite in Serie C nel 1969. Serie B 1984, nelle immagini Pescara-Lecce 1-1, Pacchiarotti sostituisce l'infortunato Rossi l'undici del compianto Catuzzi, sblocca il punteggio con Roselli assistito da Danilo Ronzani. Quindi la reazione di Di Cicco su Vanoli, Biancazzurri in 10, il veleno nella coda, il pareggio ospite infatti viziato da un fallo di mani di Palese. Serie A 1988-89, errore di Camplone, contropiede leccese da Barbas a Riccardo Paciocco che firma il vantaggio. Poi lo stesso Paciocco commette fallo su Junior dal dischetto Milton Tita non perdona. Serie B 1991-92, angolo di Pagano rispinta dal limite, Ubaldo Righetti controlla e col mancino al volo trafigge Battara. Prodezza del difensore, il raddoppio su classico capovolgimento, lancio splendido di Giacomo Di Cara. Rocco Pagano mette la quarta, saluta tutti e se ne va, 2-0. Gennaio 1995, il Pescara di Franco Oddo si impone 2-1, traversa di Nobile sul calcio franco, sul corner svarione di Pasquale Bruno e gol di Salvatore Alfieri. Lo stesso Bruno riequilibra il match ma solo momentaneamente perché dal preciso corner battuto dal solito Michele Baldi, svetta Giovanni Loseto, battuto l'ex gatta e anche l'unico gol del difensore barese in maglia Biancazzurra. Campionato 96-97, il Pescara di Delio Rossi che giocava un calcio meraviglioso, travolge il Lecce di Giampiero Ventura, poi promosso in A. Primo gol di Palladini che con un gran destro piega le mani di Fabrizio Lorieri. Poi Gelsi alla sua maniera, botta terrificante che incenerisce l'estremo giallorosso. Il Trissi invece è figlio di una clamorosa autorete del difensore Servidei. Stagione 2006-2007, successo in rimonta per i Biancazzurri di Vincenzo Vivarini. Fortunoso il gol di Tiribocchi che al volo colpisce con lo stinco e scavalca Polito. Pareggio di Marco Martini servito da Mora. Gol vittoria di Filippo Agomeri, Antonelli destro potente su calcio piazzato ma palese la compartecipazione del portiere del Lecce Nicola Pavarini.